Sono ore decisive per l'ingresso meno di Angelo D'Agostino in società. Entro le 10 di domani mattina le parti hanno deciso di chiudere la vicenda con un freddo comunicato stampa di rottura della trattativa oppure con una conferenza di presentazione dell'ambizioso progetto. Tutto dipende dall'esito che al momento non appare per nulla scontato perché la differenza tra domanda e offerta resta sostanziosa. La valutazione che Tacone fa delle quote del parco giocatori della società nel suo complesso non coincide affatto con quella proposta da D'Agostino. Il presidente ha spiegato di aver fatto una richiesta lecita e inferiore a quella formulata dalle cordate non irpine. Il parlamentare dal canto suo ha fatto un'analisi complessiva con un'offerta, secondo lui più che valida, arrivando persino a puntare al 70% del pacchetto azionario. Ma non solo. Nella giornata di ieri l'imprenditore di Montefalcione avrebbe pure ritoccato di altri 500.000 euro la sua offerta, che evidentemente Tacone ancora non reputa congrua. Insomma, tutto ruota intorno al prezzo, dal momento che per il resto l'intesa di Massima c'è, a partire dal ruolo di amministratore delegato che dovrebbe essere assunto da Roberto Di Gennaro. Da definire invece le cariche di Gubitosa e dei due Tacone. se Massimiliano ha manifestato l'intenzione di lasciare Walter Tacone è stato categorico sulla portrona della presidenza che non vollebbe mollare per diritti acquisiti sul campo. Un desiderio che Gubitosa non appare per nulla intenzionato ad esaudire. Un altro ostacolo, insomma, sulla strada di una trattativa il cui esito non è affatto scontato.